le maschere in antropologia servono per celare e disvelare allo stesso tempo nascondono la vera identità di chi le indossa e contemporaneamente indicano un messaggio altro tutelano le fattezze del mascherato che altrimenti si violerebbe il tabù della segretezza e rappresentano e identificano il soggetto che la maschera descrive e contiene uno sciamano un giullare un guerriero un attore un poeta un religioso in talune processioni una dama veneziana una danzatrice malesiana un defunto un cantastorie utilizzano una maschera nell'esercizio della loro funzione la maschera è un oggetto serio utile indispensabile socialmente culturalmente la maschera dissimula dissacra cela e celia la maschera è diversa dal corpo dunque al contempo però ne trae forza energia e ne cede in uno scambio simbiotico la maschera vive sebbene mutilata senza il corpo e viceversa ma entrambi saranno altro dal personaggio che insieme vivificano unendosi il corpo da solo comunica rappresenta la persona il politico e le sue idee diventando iconografico esso stesso in taluni casi ma sono le proposte il pensiero gli scritti eventuali del politico a rimanere saldi nella storia con la fisicità che a rimorchio spinge l'immaginario collettivo e la rappresentazione della sua visione del mondo senza pensiero i corpi sarebbero vuota carne deambulante mentre nascono e si rigenerano attraverso l'elaborazione di visioni utopie scenari provocazioni e idee per la società presente e o futura impossibile immaginare john kennedy senza i ch binem berliner gorbacev senza la perestroica berlinguer senza questione morale berlusconi senza un milione di posti di lavoro mitterrand senza la forza tranquilla obama senza weekend il loro fisico per quanto ai tante peculiare o audace sarebbe rimasto inerme in berbe abbandonato alla temperie degli anni del logorio del tempo il sigaro di winston churchill il fular di a occhetto il doppio petto di s berlusconi i pantaloni di a merkel la chefia di uai arafat il passamontagna zapatista il saio di madre teresa di calcutta il basco del che l'angioma di gorbacev gli stivali da cowboy di reagan in uno scenario sterminato di molteplici segni individuali sarebbero rimasti comportamenti abitudini vezie fisime di altrettanti anonimi personaggi della società umana e 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